Pochi giorni dopo, il 6 agosto, il dottor Nini Cassarà, che era un altro straordinario poliziotto capo della squadra mobile di Palermo, uno dei nostri collaboratori più fedeli e più bravi, a metà giornata stava tornando a casa, era appena sceso alla macchina blindata e stava percorrendo il breve tragitto che lo separava dall'androne del palazzo dove abitava. Ma durante quel breve tragitto un gruppo di fuoco che si era appostato in un appartamento nel palazzo di fronte lo fece segno di un numero incredibile di colpi di Kalasnikov in serie di autopsia. Dopo quasi vent'anni dal drammatico 1992 che vide la tragica scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Giuseppe Aiala ha deciso di raccontare la sua verità mettendosi alla prova con un nuovo mezzo comunicativo, il teatro, portando in scena chi ha paura muore ogni giorno dall'omonimo libro scritto assieme ad Enzo Speranza. La storia di quegli anni, la straordinaria esperienza vissuta al fianco di Falcone e Borsellino con i quali condivise la vita professionale e quotidiana, ma soprattutto una profonda amicizia, hanno dato vita ad un incontro spettacolo che ha posto l'attenzione sulla Sicilia, su Cosa Nostra, sulla politica e la giustizia italiana di allora come di oggi. Una storia di vittorie enormi, di enormi fallimenti, di speranze deluse e tanti luoghi comuni, primo fra i quali che le stragi fermarono il pull antimafia, oggi l'ultima rappresentazione al Teatro Verde di Salerno alle 18.30. Era l'ordinanza di rinvio a giudizio del maxiprocesso firmata dai giudici struttori, un documento che era oltre 8.000 pagine, d'altra parte gli imputati dei mafiosi rinviati a giudizio erano 475 e il numero dei delitti gravissimi anche contestati superava il migliaio.